A me quello che interessa è sicuramente migliorare la vita dei miei cittadini e quando parlo di cittadini mi riferisco anche a tutto il mondo dell'impresa essendo il sindaco di Santa Croce sull'Arno. Per migliorare la vita dei cittadini credo che noi si debba migliorare il modo di lavorare all'interno dell'ente. Credo che sia davvero inutile offrire per esempio dei buoni servizi online al cittadino, penso per esempio a tutto il mondo dei servizi alla persona se poi i cittadini non sono connessi. Il lavoro che ho tentato di mettere in pratica è un lavoro più concreto, è un lavoro sulle infrastrutture. Penso per esempio al nuovo sito internet che contiene anche altre applicazioni, mi viene in mente la app del comune piuttosto che la newsletter. Penso per esempio alla wifi gratuita in punti strategici del nostro territorio ma soprattutto penso alla grande opportunità che la regione toscana ci ha dato scegliendoci come comune dove avviare il famoso progetto di banda larga. Io credo che la priorità numero uno sia quella di ridurre a zero il digital divide. Credo che questo sia fondamentale, lo sia per le famiglie, lo sia per le pubbliche amministrazioni e lo sia per le imprese. Quindi dobbiamo avere il coraggio di investire sempre sulla ricerca sulla tecnologia e costruire appunto una visione di futuro tutti insieme.